fra poco. Ok, perfetto, signori, buongiorno, signora Bucaro, signora Meccia, possiamo procedere con l'appello. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Aresu. Assente. Cannella. Assente. Limuli. Presente. Maraventano. Assente. Nona. Assente. Pernice. Assente. Sino. Assente. Susinno. Assente. Tumbarello. Assente. Valenti. Assente. Costata l'assenza del nome legale, il Presidente chiude la saluta e la rinvio alle 10 alle 11.32. A dopo. A dopo.